Noi non avevamo dubbi perché la fiera qui di Veneta, prima Padova, adesso a Verona ancora di più, ci ha sempre dato delle grosse soddisfazioni. Influenza del pubblico enorme, anche clienti vengono e ci danno soddisfazione proprio con la loro presenza, siamo molto soddisfatti e credo che bisogna che tutti noi espositori ci crediamo perché questa è una fiera che può solo crescere e dare soddisfazioni. Il trend del momento è quello della bici elettrica, noi siamo arrivati un pochino più in ritardo perché volevamo arrivare con un prodotto che fosse all'altezza del marchio Olimpia. Crediamo molto in questo nuovo settore e stiamo investendo molto, i risultati già si vedono. Grazie a tutti!